Buongiorno Prima H e ben ritrovati a una nuova lezione di latino in pillole. Come sapete mancano ormai pochi giorni alla vostra prima versione in classe e vorrei oggi richiamare la vostra attenzione su quattro errori molto diffusi che possiamo però provare ad evitare in occasione della prova di verifica. Il primo di essi consiste nel tuffarsi, per così dire, sul vocabolario sin dal primo minuto. E' esperienza di ogni insegnante di latino vedere come nei primi minuti della versione in classe gran parte degli studenti si affannino per parecchi minuti a cercare il significato di alcune parole sul vocabolario senza aver magari neanche letto per intero la versione che dovranno tradurre. Un'operazione di questo tipo è completamente inutile e innanzitutto una perdita di tempo e certe volte addirittura dannosa per un motivo molto semplice perché conoscere il significato di una parola latina senza avere prima capito quale funzione logica essa ricopra all'interno di una frase soggetto, complemento oggetto, complemento di specificazione e così via non serve assolutamente a nulla. Tra l'altro non avremo neanche la sicurezza di aver centrato al primo colpo il significato più corretto perché spesso un vocabolo in latino può avere tre, quattro, cinque significati diversi. Dunque attenzione, non abbiate fretta di utilizzare il vocabolario sarebbe addirittura meglio evitare di aprirlo almeno nei primi 10-20 minuti del tempo che vi metterò a disposizione. Come ben sapete è molto più produttivo lavorare frase per frase cercando di analizzare la struttura logica di ognuna delle frasi della versione. Di tempo ce ne sarà quindi il vocabolario utilizziamolo qualche minuto dopo, non da subito. Un secondo errore che molti studenti commettono è pensare che la versione sia una specie di gara di velocità. Attenzione, il tempo a disposizione non sarà poco saranno circa due ore quindi di tempo ce ne sarà più che a sufficienza. Se proprio volessimo paragonare la versione in classe a una gara di atletica leggera non dovremmo pensare ai 100 metri cioè a una gara che dura pochissimi secondi ma piuttosto a una prova di resistenza quale ad esempio la maratona che non a caso dura circa due ore. Quindi il segreto non sarà la velocità estrema nel tradurre la rapidità, né tantomeno la fretta. Il segreto sarà una buona gestione di tutto il tempo che vi viene messo a disposizione per leggere una prima volta il testo per segmentarlo in frasi più brevi per tradurle con calma una per una e parola per parola e per rileggere alla fine prima di consegnare. Dunque secondo suggerimento nessuna gara di velocità non vince chi consegna per primo vince chi traduce più correttamente sfruttando correttamente tutto il tempo messo a disposizione. Un terzo suggerimento Un errore che molti studenti commettono è quello di, per così dire, improvvisarsi grandi scrittori. Nonostante il fatto che l'insegnante specialmente nelle prime verifiche chieda semplicemente una traduzione letterale molto semplice, molto pulita, elementare ci si improvvisa scrittori e si vanno magari ad aggiungere vocaboli che l'autore non ha mai utilizzato nel testo o magari invece di fornire una traduzione molto semplice si utilizzano degli aggettivi dei verbi, dei sostantivi che una persona percepisce come raffinati, eleganti, ricercati. Non è assolutamente il caso di farlo al contrario è un errore bisogna almeno per il momento accontentarsi di tradurre in maniera semplice lineare, essenziale e aderente a quello che c'è scritto nel testo. Un ultimo errore che spesso mi è capitato di veder commettere da molti studenti è l'errore di consegnare la verifica senza neanche aver riletto una volta ciò che si è tradotto. Dunque, prima di consegnare cerca di riservarti almeno 5-10 minuti di tempo per rileggere la tua traduzione. Ma attenzione, non per fare un'unica rilettura ma per fare almeno due o tre riletture diverse ognuna con una finalità specifica. Potrai magari rileggere una prima volta il testo per verificare che tutto ciò che tu hai scritto abbia senso. Poi magari fare una seconda lettura nella quale controllerai di non aver dimenticato alcuna parola o addirittura di non aver dimenticato intere frasi copiando dalla brutta alla bella. Ti suggerisco da ultimo di rileggere una terza volta il testo facendo attenzione non tanto al latino quanto all'italiano cioè di non aver commesso degli errori di ortografia in italiano oppure di aver dimenticato dei segni di punteggiatura. Come abbiamo detto mille volte in classe l'obiettivo di una versione dal latino in italiano è di tradurre il testo latino nella nostra lingua in un italiano semplice corretto elementare e letterale che rispetti però come ovvio le normali regole dell'ortografia e della punteggiatura. Spero come sempre di essere stato utile riguardate con attenzione questi quattro errori da evitare assolutamente e dunque in bocca al lupo sin da ora per la vostra prima versione in classe.